Partire dalla location e credo che lo stile di questa stazione marittima, che è uno stile aperto sulla novità del racconto, ed è forte anche di una pulsione verso il nuovo e di grande apertura, meglio non poteva sottolineare il senso di questa iniziativa che giunta alla veneranda in senso positivo, a età in cui ha raggiunto, vuol dire che di strada ne ha fatta significativamente. Mi ha colpito la parola chiave di questa edizione, che è quella della contaminazione. Sdoganata ad un'accezione negativa, contaminazione è sempre stato letto come un termine negativo di degrado, di inquinamento, è recuperata nella sua visione più giusta e più autentica, cioè di intreccio, di integrazione, di confronto di culture, di linguaggi, di pratiche, in questo caso culturali dal punto di vista della ricerca scientifica, della ricerca e dell'economia come attività delle aziende. Credo che questa contaminazione virtuosa dia il senso di questa iniziativa, apra uno spazio importante ed interessante per quest'area meridionale in particolare, che facendosi in qualche modo attrattore di un discorso, ma anche di un incontro e di una contaminazione futura possibile tra il momento della ricerca e il momento della produzione, può avere ricadute su se stessa, ma può essere anche un polo di riferimento nazionale sicuramente, spero nel tempo anche internazionale, perché ormai si deve ragionare per aree e per reti, dobbiamo ragionare, non ragioniamo più per territori geograficamente limitati. La grande scommessa che sta giocando questa iniziativa, finora credo abbia dato i suoi risultati, abbia segnalato delle premialità a se stessa molto positive, ho visto dalla vivacità anche della partecipazione dei ragazzi e degli studenti, quest'anno c'è stato questo riferimento più sistematico mi pare alle scuole, siete andati a prendere lì i cervelli. E' una buona scelta, è una grande scelta soprattutto perché l'invecchiamento di una società non lo misuriamo solo sull'anagrafe, lo misuriamo sulla capacità di avere idee, sulla capacità di avere anche e soprattutto il gusto dell'utopia. Il presidente Gisolfi in una intervista che ha rilasciato al mattino diceva che siamo partiti come un'utopia, è diventato un fatto concreto. Così come all'inizio dicevo la contaminazione come termine positivo, anche l'utopia dobbiamo recuperarla nel termine positivo perché l'utopia non è il sonno della regione nemmeno la distrazione della regione, è la forza che ci fa andare avanti e che ci fa innovare e che ci fa scommettere e investire come si sta facendo in queste iniziative.